In questo breve video vogliamo capire che cosa sia il valore efficace della corrente alternata. Ricordiamo che la corrente alternata è quella prodotta da un alternatore ed ha un andamento di tipo sinusoidale, del tipo IDT uguale I0 per il seno di ωT. ω è la pulsazione che è legata al periodo, ovvero alla frequenza dell'alternatore. Nella rappresentazione grafica l'intensità di corrente cresce da 0 ad un valore massimo, chiamiamolo I0, per poi tornare a 0, giungere a un valore massimo negativo, meno I0, e proseguire questo andamento con una periodicità che è rappresentata appunto dal periodo T. Se noi abbiamo un circuito puramente resistivo, dunque nel quale siano trascurabili gli effetti di induttanza e di capacità, possiamo dire che la corrente alternata è la conseguenza diretta della forza elettromotrice alternata e che in un circuito di questo tipo le due grandezze variabili, cioè la forza elettromotrice e l'intensità di corrente, sono in ogni istante in fase, cioè quando la forza elettromotrice raggiunge il valore massimo, anche l'intensità di corrente assume il valore massimo e così via in tutti i punti. Dunque, quel che possiamo scrivere è che la forza elettromotrice in funzione del tempo è data, secondo la legge di Ohm, dal prodotto della resistenza del circuito per l'intensità in funzione del tempo. Ma quello che ci interessa adesso è un discorso applicato alla potenza. Vogliamo capire come si possa calcolare la potenza assorbita da un circuito in corrente alternata, limitandoci al caso puramente ohmico. La potenza si può calcolare come prodotto della resistenza per l'intensità di corrente, che anch'essa è una funzione del tempo, al quadrato. È la formula dell'effetto Joule. Ma siccome siamo in presenza di un'intensità di corrente alternata, possiamo scrivere R per I0 quadro per sen quadro di Omega T. Quindi la potenza varia in funzione del tempo. Ora, a noi interessa, trattandosi di un circuito in alternata, non tanto il valore istantaneo della potenza, ma un valore medio. Ad esempio, un valore medio calcolato in un periodo di oscillazione della corrente. Ci aiutiamo con GeoGebra per poter visualizzare l'andamento nel tempo della potenza prodotta in un circuito puramente ohmico da una corrente alternata. Quella che vediamo rappresentata è la funzione y uguale a sen x, quella che rappresenta l'intensità di corrente alternata, che ovviamente ha una periodicità di 2π, quindi vedete 6,28 su questo asse. I valori di sen x vanno da un valore massimo di più 1 a un valore minimo di meno 1. Ora vogliamo calcolare la potenza istantanea. La formula della potenza, che vediamo qua in alto, è data da π in funzione del tempo, è data da r0 quadro sen quadro di Omega T. Quindi ha un andamento di tipo sen quadro x. E in questo caso la rappresentiamo come una funzione del tipo 2 sen quadro di x, dove ovviamente il fattore 2 è un fattore di scala, di amplificazione, e rappresenta l'R0 quadro. Mentre l'andamento del sen quadro ha appunto questa forma. Tutte le volte che la semionda diventa negativa, il sen quadro ovviamente lo ribalta e lo fa diventare una semionda positiva. Quindi cancellando adesso dalla visualizzazione l'andamento della corrente, e ricordando che questa è la rappresentazione della potenza in funzione del tempo, vogliamo dimostrare quanto valga la potenza media. Ricordo che la potenza media può essere calcolata in questo modo, come rapporto fra l'energia che viene dissipata in questo resistore per effetto Joule, diviso il tempo. E se voglio una potenza media posso prendere l'energia dissipata in un periodo, diviso il periodo di tempo durante il quale l'oscillazione si ripete. Quello che vogliamo dimostrare è che l'energia che viene dissipata in un periodo è esattamente uguale all'area che si trova al di sotto di questa funzione. Ora, questo lo si capisce molto facilmente quando avremo gli strumenti, cioè il calcolo integrale, ma lo possiamo capire anche in questo modo. Noi finora le aree come le calcolavamo? Le calcolavamo approssimandole con una serie di rettangoli. Sappiamo che quanto più il numero di rettangoli diventa elevato, proviamo a mettere ad esempio 300 rettangoli, tanto più l'approssimazione dell'area calcolata in questo modo con l'area calcolata invece con gli strumenti dell'analisi matematica diventa raffinata. Quindi noi per adesso visualizziamo meno rettangoli, diciamo 100, per poter capire meglio il concetto che vi voglio esprimere. Consideriamo l'area di ciascun rettangolo. Ciascun rettangolo ha come altezza una potenza e come base un intervallo di tempo. Ora voi sapete che potenza per tempo dà effettivamente l'energia. Dunque il nostro problema è che sommando le aree di tutti questi rettangolini avremo l'energia complessivamente dissipata nel resistore nell'arco di un periodo. Ora, questa area, come vi dicevo, può essere calcolata mediante degli strumenti matematici, ma può essere anche calcolata in un modo più semplice. Se noi adesso rappresentiamo con una linea il punto di mezzo fra il massimo della potenza dissipata, che è Ri0 quadro, questo punto di mezzo avrà come quota un mezzo Ri0 quadro. Ora, quello che noi vogliamo dimostrare è che l'area al di sotto di queste due semionde è uguale all'area di questo rettangolo, che ha come base il periodo e come altezza un mezzo Ri0 quadro. Ma lo si capisce piuttosto bene anche dal punto di vista intuitivo. L'area di questo rettangolo, come vedete, lascia fuori questi due picchi delle semionde. Però questi picchi vanno esattamente a compensare questa zona, che mancherebbe, nel calcolo dell'area, e queste due piccole zone laterali. Insomma, quando avrete gli strumenti matematici, lo potrete vedere più dettagliatamente, ma quello che conta dal punto di vista fisico è questo. L'area al di sotto della funzione che rappresenta la potenza, cioè quest'area, rappresenta l'energia dissipata in un periodo. Ma questa stessa area può essere calcolata in modo più semplice come area di questo rettangolo. E dunque, torniamo adesso all'esame di questo calcolo, ricordando questa cosa. Dunque, torniamo nella scrittura. Possiamo dire, dunque, che la potenza media si può calcolare come energia dissipata diviso periodo durante il quale viene dissipata. Ma l'energia dissipata è un mezzo, R i zero quadro, ricordate l'altezza del rettangolo, per T la base del rettangolo, diviso T. Quindi, risulta che la potenza media prodotta dalla corrente alternata è un mezzo, R i zero quadro. Ora, siccome noi eravamo abituati, dal studio dei circuiti in continua, che il legame fra potenza e intensità di corrente era questo, P uguale R i quadro, così scrivevamo nei circuiti in continua, si cerca di riscrivere la formula della potenza media in alternata in maniera analoga a quanto facevamo in continua. E si introduce un concetto, che è il concetto di valore efficace di una corrente alternata. Facciamo attenzione bene alla definizione. Il valore efficace della corrente alternata rappresenta l'intensità di una corrente continua che eroga la stessa potenza fornita dalla corrente alternata. Cioè, la corrente alternata ci dà una potenza media di un mezzo, R i zero quadro. Se noi avessimo in quel circuito una corrente continua, questa produrrebbe la stessa potenza se avesse un valore di corrente che si chiama corrente efficace. Cioè, praticamente, noi cerchiamo qual è il valore di una corrente continua che in quello stesso circuito resistivo produce la stessa potenza che fa in realtà la corrente alternata. Comparando queste due formule si capisce che il valore di una corrente continua che produca la stessa potenza della corrente alternata è dato da questa relazione. Quindi, l'intensità efficace della corrente alternata è pari a i zero, cioè il valore di picco della corrente alternata, fratto la radice di due. Così come si definisce il valore efficace di una corrente alternata, si definisce anche il valore efficace di una tensione alternata come rapporto fra il valore di picco della tensione e la radice di due. La comodità dell'introduzione di questi concetti è che adesso la potenza media sviluppata da un circuito in alternata la posso scrivere esattamente come facevo con i circuiti in continua ma sostituendo al valore presente nella formula dell'effetto Joule il valore efficace della corrente alternata. E valgono anche le relazioni potenza media uguale F efficace per I efficace. Cioè, in pratica, continuiamo ad usare le stesse formule dei circuiti in continua ma siamo in un circuito in alternata semplicemente dobbiamo utilizzare nelle formule il valore efficace della corrente alternata o della tensione alternata.